...ne serie di lasagne, in un ricco denso brodo. Johnny, che è un'assoluta babbuità mentale, praticamente sono finostimbrato in quell'alta temperatura che nel Roma di quella ricca minestra, stanno facendo ricascare come passi dal ramo. E tu Johnny, sei l'ultimo passero su questi nostri ramo, non è vero? Tu stesso smetti di aver avuto fortuna sino oggi, ma la fortuna si consuma e sarà certamente consumata avanti di 31 gennaio. Perché dunque starà ancora in giro, in divisa con le armi di Grignano e battendo le enti? Sembra che tu lo voglia e che tu ti ci prepari a quel loro corpo di caccia. Giuse compostamente le sue potenti mani, darete a me i giochi. Da tua parte l'hai fatta la tua coscienza e senza altro apposto. Dunque smetti tutto e scendi il premio, non per consegnarti, Dio vieti e poi troppo tardi, ma scendi. E un ragazzo come te avrà certamente parenti e amici che non ascondano. Un ascondiglio dove stai fino a quella finita, soltanto mangiare e dormire, non devi sentire tanto. Cioè, perché da che ora passò la voce ricevere la vista ogni tanto di qualche tua amica di fiducia, l'unica a conoscere il tuo indirizzo. L'uomo parlava con il cuore, indubbiamente. E forse voleva risparmiarsi la pena, non già la fatica, di maneggiare lui Johnny come oggi avrebbero maneggiato Ivan e Luis. E stasera alla sepoltura sarebbe stato certamente divertire i preziosi. Così, Johnny, di sorrisi soltanto, e si alzò. L'uomo lo segue alla porta con massiccio orgasmo. Che mi dici Johnny? Johnny alzò il catenaccio. Mi sono impegnato a dirti no fino in fondo. E questa invece sarebbe una maniera di dirgli sì. No che non lo è, lo è, lo è la maniera di dirgli sì. Un petto polare, dai vitani di sinistra, spazzuola la sua strada, obbligandole a resistere con ogni sua forza, per non essere rovesciato dal fondo a destra. Tutto, anche la morsa del freddo, la furia del vento, la voragia della notte, tutto concorso a affondarlo in un sonoro orgoglio. Io sono il passero che non crescherà mai. Io sono l'unico passero. Ma tosto, se ne penti, e tra noi sì. Ecco, mi sono impegnato a dirti no fino in fondo. E se soltanto mi nascondessi, trovassi una scappatoia, sarebbe un modo di dirti sì. Ecco, la resistenza è stata questa, credo. Un modo di dirti no fino in fondo. Lo troviamo nel libro di Fenone, lo troviamo anche non in molti altri libri, ma sicuramente gli scrittori ce l'hanno raccontato. Grazie. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie.